Lei è un unzio apostolico in Libano, ci sarà una cantante libanese, sappiamo che Libano è un laboratorio anche per dialogo tra le fedi, lo chiamò un messaggio San Giovanni Paolo II, ecco, è bello parlare di pace? Credo che non solo è bello ma è necessario ed il Libano offre questa realtà di integrazione, di rispetto, di stima e anche di collaborazione, è l'unica soluzione per tutto il Medio Oriente ma forse per il mondo intero, in questo senso incoraggiamo ogni iniziativa che va in questa direzione. Lei è ottimista? Certamente perché alla fine il bene prevale.